Ciao ragazzi, benvenuti in prima persona, guardate, sembra Resident Evil 7 Oggi ho qui due amici giapponesi ai quali farò provare delle merende italiane e loro mi diranno che cosa ne pensano Iniziamo subito Iniziamo dalla prima che ha il Kinder Pinguì Buon appetito Grazie Buon appetito Buon appetito Buon appetito E' buon appetito E' buon appetito Non ce l'hanno in giappone la Kinder Pinguì Buon appetito Buon appetito Buon appetito Ok poi ci diranno i voti e ci diranno il valore preferito E' buon appetito Dov'è? Io non amo il mio figlio E' buon appetito E' buon appetito Non lo so Non lo so Prostiamo con la prossima merendina che è la Kinder Pinguì Buon appetito E' buon appetito Che cosa è diverso? E' buon appetito Non lo so proviamolo Ito Tappalo Tu sei quello? Non me è gusto R кусnici Ehm Fordina Vimio?? escolta più la più cibles Dio stor��lichi Tutti di risultato? Tutti ci sono dop surrounding 50 video Catecchife Catecchi whicù? Insomma? Perché l' since legato? Non è possibile mbreva? C'è un tagliieren opposing Psalm ale Un bagnisto vi dirlo Ah, ok. Buon punto. Hanno detto che siccome non sono abituati a mangiare questo tipo di sapore, non sono abituati i giapponesi a mangiare la kinderfetta al latte. Proseguiamo con i low hacker! Al gusto cacao! Ecco, ora diciamo. Prendiamo! Ok, quello è da in fine. Si, è molto buono. Proseguiamo con i tarallucci! Grazie! C'è l'abbaccio no? C'è l'abbno? vieli alla c'è? Poi provoro C'è l'abbaccio C'è l'abbabb garment C'è l'abbaccio Non è fсяgato Apresenti Sì, però c'è anche il calo di molto più, quindi non è così. Sì! Uehars! Uehars! Qui si... 6. Uehars! Ma è facile, quindi è molto facile, quindi... 6. 6. Sto di 6. Questo è 9. Questo è un po' più piacevole! È un po' più piacevole? Un po' più piacevole, però... Questo è un po' più piacevole. C'è un po' più piacevole, quindi è un po' più piacevole. Non ci sono le fiecare. Cosa che c'è anche il vino? Cosa? 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 Quindi ragazzi vincono i tarallucci. Se volete fare un regalo dei giapponesi suggerisco questi biscotti qui. Noi ci vediamo al prossimo video, un abbraccio da Seba, ciao! Bye! Completiamo il video cucinando il ramen! Cuciniamo il ramen! Ecco qui. Mi appresto a mettere il ramen nell'acqua bollente ragazzi. Cucina di alto livello. Guardate se non sembrano i miei capelli. I capelli di Seba. Adesso dobbiamo aspettare per tre minuti che si cuocia per bene il nostro rametto ragazzi. Aggiungiamo un altro rametto. Ne facciamo due! Mmm. Doppio gusto. No, stesso gusto. Sì ragazzi. La preparazione del ramen. Mettiamo un po' la zuppa. Il nostro ramen è pronto Buon appetito Ecco cosa stiamo per mangiare La pasta alla carbonara Buon appetito Ecco 40-20 Ragazzi colazione Io ho preso questa Comunque ci stiamo per trasferire a Milano Ecco qua tutte le valigie Per il trasferimento Ne abbiamo ben quattro Ragazzi sono arrivato un sacco di cose Dall'Ikea Vediamo che cosa ho comprato Per la casa Milano Che bello Questo è un letto a castello Ma non si spaccano Vediamo un po' cosa è arrivato Un sacco di bei cuscini Tanti cuscini dell'Ikea Poi abbiamo una lampada Questa è la stessa che avevo in Giappone Però un po' più Vabbè questa poi scopriremo come si monta E qui vediamo che cosa c'è Ok non so Che cos'è questa E anche questo che sono comode Luce E anche questo è il nostro canale E anche questo è il nostro canale Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!